Allora, adesso è il momento di Alessandro Congeco, il giorno verrà. Ciao. 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 Non si ne trovano più. Io credevo di noi, invece no. Insomma, se qualcuno di voi stasera come torna a casa mi fa la cortesia controlla tutto un po'. Basta unimento. Voi mi scrivete quanti gettoni avete recuperato e io vengo a prendermi. Da bene. Se voi mi dite che tanto non vi servono più quelli che avete li prendo tutti io. Non lo so cosa state pensando. Anche i miei amici me lo dicono Ah, basta, sembri uno di quelli con scantinati e soffitta C'ha un frusale, è così inutile Ah, basta, guarda, con questi gettoni Se no penso che ti sta venendo tipo l'alzheimer O qualche altra malattia strana Ma no, non sono malato, sto bene Sanno che questa cosa dei gettoni è una cosa mia Eh sì, con loro siamo amici da sempre Ma non è facile Devi trovare il momento giusto, le parole giuste Eh sì, devono essere le parole giuste Anzi, scusate se mi apro il film Allora, visto che questa cosa dei gettoni Ho cominciato a dirvela Adesso, se permettete, la finisco, ve la dico tutta Perché così magari poi con i miei amici mi viene più facile In fondo anche mia madre mi ha sempre insegnato Che una cosa iniziata non si lascia in vita E infatti esattamente come mia madre Anche questa cosa dei gettoni Io oggi posso dirvi con assoluta certezza Che fa parte di me Della mia vita Della mia storia Sì, come quando studiavo Ero qui a Caglia E via di tanto in tanto Telefonavo a casa A numero così Ma per sentire gli evo A fare la mia madre Ogni volta lo stesso identico rituale Da baghino, i gettoni, la pina, il dito, la ruota che gira 07, 84, 31, 008 Senti, figlio mio Aspetta, aspetta Ehi, questo viene Allora, cosa mi raccomando? L'hai dato? Hai dato l'esame? Quello difficile? Quello di quel cane che buttava fuori tutti? Ma dai, ma che bravo! E dice che non deve aprire gli esami Ma dai, senti un po' sempre Ma a Pasqua ritorni, sì Ehi, ma a Pasqua ritorni, sì Sì, ma a Pasqua ritorni, sì Mia madre Mi aspettava Mi aspettava sempre Era come se la vedessi E io è sempre stata Un rituale Una sequenza precisa Nelle cose, nelle azioni Nelle parole Sì, lui Aspetta, aspetta Ehi, che viene Adesso anche le gini Mi sto facendo un po' di pasta Perché sono sola E tuo padre è da Don Flux E Domenico dice che non torna Pierpaolo si è già curicato E Corrado sta suonando E ora, mi E allora mi son detto a Totta Mi faccio un po' di pasta Perché così Do anche al cane E che quest'animale Ti guarda con quello Guarda, guarda Ti guarda con quello Gnocchi che senta Che sembra un cristiano Serva, guarda Sembra un cristiano Serva Lui sì Che me ne fa compagnia Dicei Ne parlava Ne raccontava A mia madre Oh, per mia madre Sarebbero voluti cento Diceva Dicevo salvo Solo in comune Come sarebbe a dire Solo in comune Non in chiesa E a Don Flux Non ci pensi E a tuo padre Chi glielo dice adesso A tuo padre A tuo padre Chi glielo dice adesso Ah, non crederai Che questa cosa Gliela debba dire Proprio Bluf Fini di gettoglie Fini di gettoglie Il telefono Io a Nuoro Ho visto per la prima volta Cadere la neve Sì, anche a Cagliari Mi sa cadere la neve Un paio di volte Che occhi di sale Neve di mare A Nuoro no A Nuoro Neve di monte Viene giù Liene Si appoggia Ti fa compagnia Il muro è la casa mia Io, per esempio Il muorese Lo capivo E lo parlavo anche E poi ho preso tutto Tutto Non lo so Perché succede Che si parte E non si torna Non so Cos'è che dentro Poco a poco Ci taglia le radici Non lo so Ci sono cose che crediamo Di portarci dentro Per sempre E poi invece Sbocchini La calezza di chi Ci ha cresciuto I luoghi per anni Ma come la va? E la testa Tutto parte dalla testa Nella testa Noi ci siamo cose Azioni e parole In sequenza Come fosse una musica Come fosse una filastrocca A volte con una stupida filastrocca Crediamo di dominarle le cose Facciamo cose come fossero un rituale Tabacchino, gettoni, cabina Il dito La volta che gira 07, 84, 31, 00, 8 E intanto gli anni passano I gettoni spariscono Spariscono le cabine Inventano Inventano i cellulari Il mondo intorno a noi cambia E noi no Per certe cose andiamo avanti Come viva Per inenzia Abitudine Comodità Come si chiama questa cosa Che ci succede Non lo so Non lo so Non mi viene come Alla fine Alla fine avranno ragione I miei amici Ii Basta Ale Con questa cosa Dei gettoni Ale Ale A te ti sta venendo Tipo un Alzheimer era qualche altra malattia strana, una malattia strana, l'Alzheimer, addirittura l'Alzheimer. Sette anni fa, la prima volta è stato sette anni fa, la prima volta che senza guardarlo ho visto in faccia l'Alzheimer è stato sette anni fa, l'ho visto con questo, i gettoni non c'erano già più, figlio mio, aspetta, aspetta che il piede e il ginocchio, e la spiega, è sempre peggio, oh niente, le solite cose, mettendo quello che è rimasto per la cena, è rimasto, nelle, 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 eh, eh, l'armadio bianco, fa freddo, il frigorifero, tu pensa, non mi veniva, no, la pasta, sì, oh no, oh no, quello rosso, il sugo, tu pensa, non mi veniva, no, anche, anche, grigia, la, la pentola, tu pensa, non mi veniva. Poi ha iniziato a dimenticarsi altro, spegnere il fornello, chiudere il gas, la porta di casa, tutte quelle cose che ha sempre fatto, le cose quotidiane, e allora ho capito, sì, ho capito. Non è che prima non avevo mai, è che quella volta lì, anche se al calento, anche se è lontano, io l'ho visto, l'ho visto in faccia, l'ho toccato. Per carità, poi ho fatto quello che un figlio deve fare, cioè, quello che ho potuto fare, l'ho fatto. Ioanna, e meno male che c'è Ioanna, lunga vita Ioanna, e non ci fosse Ioanna. Ioanna dice che va tutto bene, tutto bene. Mia madre mangia, col sundino, sì, però mangia. Mia madre beve, dorme, non ha piaghe. Lei dice che anche il dottore dice che va tutto bene. Che signora Maria va tutto bene. Cuore bene, fegato bene, remi bene, solo un cervello. Un cervello. Lei e il dottore sanno bene, questa è malattia bastarda. Bastarda. Ieri, ieri sono andato a trovare mia madre. Mi sono fatto coraggio e sono andato. Sì, lo so, ci vuole coraggio per farsi coraggio per andare a trovare tua madre, lo so. Sono entrato nella sua stanza. E' la sola. Ciao mamma. Sono Sandrino. Mamma. Mamma, sono Sandrino. Sandrino. Non, neanche un sussurro. Ha continuato a guardare qualcosa nel vuoto. I suoi occhi, un filo di luce. Le sue mani. Il suo viso. La sua pelle. Una bambina. Una bambina. è incantata. E guarda qualcosa nel vuoto. Il suo vuoto. Il mio vuoto. è incantata. Grazie. 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 Dei ringraziamenti. importantissimi. La volta scorsa purtroppo non l'ho fatto per la generia, me ne scuso. Voglio ringraziare i tecnici del Calabria Teatro. Gianni Spirgo, Emiliano Bifi, Matteo Sanna e Giorgio Sizia perché ci hanno assistito. Ci assistono sempre con grande prossima vita. Grazie. Visto l'argomento è assolutamente autobiografico, quindi è difficilissimo da portare avanti da solo. Era chiaro che un lavoro così non potevo farlo da solo. I miei grandi e più profondi ringraziamenti vanno a Monica Porcetta che è stata in regia e ad Andrea Rosa. Grazie. Grazie.